Ciao ragazzi, sono di Youtubers Like, in pratica sarebbe il gioco dello Youtuber, cioè la vita di uno Youtuber, così capite quanto è difficile, non è facile, non è per niente facile, in realtà è difficile cioè, allora, nuova partita cosa è successo? ho detto nuova partita oh ok sono un maschio, no, mi hanno dato un maschio no, no, ho detto maschio ok maghe cosa cosa succede? sono, sono, come ha scritto come ha scritto Youtuber ha scritto Youtuber ho pure sputato cioè questo è il mondo in cui tutti i giorni Youtuber questo è il mio gioco lungo di fisola ma cos'è sta roba? eccomi! eh sì, due, vabbè, tre pc, uno, uno uno che non rete niente che programma di ritenuto lui? io uso il vegaspa 15 maschio allora io non sono biondo, eh inviatemi il colore dei capelli vabbè allora, come sono? di sicuro non così così, no e quando ne so che capelli mi metto mi metto pelato metto questi e poi li cambierò di sicuro occhi vanno bene no, c'è il marrone no, vabbè, mi tengo questi bocca e vabbè, che cifo vabbè, questo non mi cade io ho i baffi no, ho una barbetta così sì, sì potrei lasciarmi così, vero? no, no, lasciamoci in ormai quanto sono figo così allora cappellino cappellino questo c'è quello di Pikachu c'è quello di Pikachu che figo allora maglietta è estate quindi questa poi pantaloni chi è? non ci sono i pantaloni vabbè verde perché è il mio colore preferito poi questi vanno bene metto queste e gli occhiali non li porto cioè però sono gli occhiali per il computer quelli vabbè, no non me li metto sono dov'è lo YouTube? ah seguo la mia personalità I am a socievole di sicuro no animale no e che metto? metto socievole andiamo avanti di cosa puoi parlare sul tuo canale gaming? certamente gaming poi allora il mio nome fede 030 socievole no ah sì sono socievole gaming allora nome del canale ah fede 030 ah no metto il mio numero normale allora qua federico poi il mio nome del canale è fede 030 appunto ok ok ho iniziato a fare in questa stanza mi era appena trasferita con mia mamma e una mamma e mi dice ok quindi io sono in questa stanza la telecamera con il pulsante centrale ah no così ok muovi la telecamera con il pulsante destro ok va bene ho capito fammi giocare ora il mio primo video il mio primo video faceva veramente schifo non c'era nemmeno c'era soltanto l'audio del gioco e l'audio poi la mia voce no nemmeno la webcam in questi giorni sono divertite a fare video divertite nei giochi che avevo sull'amensola e che giochi ho sull'amensola quanti giochi eh sono un sacco gameplay iniziamo un video e conferenza pronta allora eh sì ma webcam bassa risoluzione non è che c'è il top il microfono senza filtro modo di relazionare potenza totale impostata inizia il nome del gioco allora questo gioco no questo gioco è bello datemi datemi gli iscritti no non gli iscritti gli iscritti ok prossimo ok adesso sì che divento famoso allora in questa fase dovrei affrontare le diverse sfide dovrei risolvere ok il gioco si blocca che sfiga però eh sguardo assassino se dov'è il tuo sguardo assassino guarda che che sguardo assassino che ha eh eh commento divertente eh sì ma già finito ma come no dai vabbè vabbè no 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 come faccio no dovrebbe iniziare così però vabbè forse sì che è un vero programma come interesse non riesco a parlare cioè interesse 76 con questo video ma posso vederla anch'io già c'è qualcosa che non va ci sono già diventato più mamoso di quanto sono io adesso io faccio il video in due secondi ho un testo ogni mese quindi devo studiare se prendo un bel voto eh sì vabbè io ho quest'anno gli esami quindi per andare a scuola devo uscire dalla mia stanza no cioè perché non fai la scuola online studia dai devo lasciare a casa per fare acquisti ok facciamo degli acquisti shopping online sì e posso fare qualcosa amazing on sì magari poterci magari avessi 100 euro amazing on ok allora queste sono le cose che vanno i giochi compriamo sì che bello questi giochi anche se un giorno faranno cagare e ora faccio qualcosa giochiamo ho già familiarizzato con le basi di creare un video sui miei doveri sì ma dai io sto perdendo un sacco di scritti in 63 ma dai un nuovo gioco sono a livello 1 sì arrivano i giochi arrivano in due secondi magari faccio davvero adesso dovranno arrivare tutti di fila ok ma come è che da quando esistono le casse volanti che si aprono da sole no frate frate vai qua ma sembra The Sims The Sims questo gioco Super Mario c'è Super Mario che figo e guardate la modernità di questo tipo va bene eeeh magari avesse una stanza tutta mia io dovevo condividerla sono un po' stretta ma poi il pc eeeh nuovo video no fammi fare un nuovo video eeeh facciamo Super Mario Iron Plumber Live ok inizia il video si ma le po' fare i giochi che costano io no vabbè le stesse cose di sempre postazione 1 io fra un po' cambierò stanza e finalmente sarà da solo però fra molto tempo allora la copia di Super Mario prossimo fammi fare il prossimo ok sta registrando ha superato una serie difficile urlo celebrativo è l'espressione quando faccio quando vinco una partita anche se non si sede mai su Fortnite eeeh meno principale posso fare soltanto quello quindi e seppure non vale niente cioè vabbè eeeh 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 e così eeeh a me non sembra però Vegas questo no non sembra proprio però guardate la qualità del video che mi ha fatto a non mettere un mi piace su questo video no no questo che sto creando questo questo nella vita reale date un mi piace questo video ha fatto 8 visualizzazioni e ha avuto 10 mi piace this is impossible i commenti voglio leggere i commenti allora per me allora a mio video di gameplay di empire planet 2 e che mi ha fatto capire che sono molto interessanti a questo video è fantastico magari lo dicesse da me la parte di questo video è il suo copione forte e bellissimi che deve ne ha fatto commuovere io anche io faccio commuovere è molto a cui non hanno il computer tavola a non posso fare niente ma io faccio qualcosa quando sta lavorando per caricare il video studiamo mentre io mangio